La pace del Signore sia con tutti noi, che Dio ci benedica anche quest'altro giorno, che possiamo fare ogni cosa secondo la onda di Dio, che la calma e la tranquillità prende possesso di noi e che possiamo veramente riorganizzare ogni cosa secondo la onda di Gesù che è venuta in questo mondo per portare la pace, la tranquillità e la felicità in tutti. Oggi ho già anticipato il messaggio, buongiorno a tutti, Dio ci benedica, che possa anche benedire la giornata di oggi e trascorreremo insieme tutti nella gloria di Dio. Amen. Questo messaggio è nel mio nuovo profilo. Ok. Vogliamo chiudere gli occhi abbassando il capo a devozione a Dio e a Gesù e pregare, può darlo con tutto il cuore. Padre Santo, Dio d'amore, per prima cosa ti vogliamo lodare e ringraziare per i benefici che tu ci hai donato ancora questa notte e ci hai benedetti di un'avvenzione eterna. Ti ringraziamo e ti lodiamo e ti benediciamo attimo per attimo del tempo che ci dona. Grazie Signore, tu sei il nostro Dio, tu sei la nostra gioia, tu sei il nostro amore. Senza di te non vivremo più, sì perché tu sei ormai come l'aria che respiriamo, Signore, mancandoci l'aria, non viviamo più e tu sei ancora più migliore, Signore. Alleluia, grazie. Benedici ancora tutta l'umanità, benedici la nostra famiglia, benedici ancora mia moglie, i miei figli, mia nuore, ancora mio genero, ancora i miei nipotini, Signore, ancora i miei consuoceri e tutti quanti ancora amici e nemici, se ne abbia ancora, che possono diventare migliori dei miei amici. Ancora benedici tutti i miei fratelli e sorelle nel mondo e che possa veramente un amore diffondersi in tutti quanti. Signore, so che in questi giorni stai benedicendo tutta l'umanità, ti affido ancora tutte le persone che sono messe in preghiera e che si sono aggiunte ancora nel verbo come amici. Benedici tutti quanti, da più piccola a più grande, ti ringrazio, ti lodo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto e sempre in eterno. Amen. Mie cari, vi saluto con un abbraccio, come faccio sempre, e un grande bacio a tutti quanti, che Dio ci benedica. A presto. Amen.